Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, eccoci in diretta ancora, un'angolazione strana, inedita, ancora in diretta con le Vanity Fair Quarantine Stories, cioè con gli appuntamenti quotidiani con i protagonisti della cultura, della musica, del cinema, dello spettacolo, che ci fanno accompagnare, che ci raccontano come hanno passato la loro quarantena, come stanno passando questo inizio di fase 2, che ci raccontano un po' anche la loro vita, la loro storia, la loro carriera. Oggi c'è un ospite che si metterà in contatto con noi da Londra, credo, ma ci racconterà meglio lei, è un soprano celebre nel mondo, che ha duettato con i più grandi cantanti lirici del mondo e ha un repertorio vasto, una voce che ci farà sentire incredibile, si chiama Carly Paoli ed è veramente un piacere averla con noi anche perché, ripeto, ci regalerà qualche minuto di musica prezioso e, come dire, pieno di gioia. Eccoci! Ehi! Buon pomeriggio! Come stai? Noi stiamo molto bene, tu come stai piuttosto? Ci dico che adesso siamo bene, stiamo aspettando questa domenica, cambiano un po' delle regole, quindi vediamo che succede. Ecco, esattamente tu dove sei? Ricordacelo. Allora, non sono tanto lontano dalla Londra, io vivo in un campagna si chiama Wiltshire e ci sono molte erbe, sono molto vicino alla città di Bath, dove vedrai tutto il dramma delle tv di Jane Austen, per esempio, tutti quelli libri un po' dell'epoca, dove le donne vestono bellissimi. Io vivo vicino a quelle città, è molto antica, ma non è stile elegante, mi piace. Ci immaginiamo un panorama da cartolina, ce l'immaginiamo un po' così. Sì, ci sono quelle città. Io vivo dentro molto campagna, quindi ci sono sempre le pecore o le mucche. viviamo insieme con gli animali. Carli, in questo scenario bucolico, una cartolina verde vicino a Londra, e ha passato lì la sua quarantena. Voi non avete fatto proprio una quarantena chiusa in casa, barricati, o sì? No, abbiamo fatto così. Hanno chiuso tutti i negozi, non si può andare al lavoro ancora in questo momento. Si può andare soltanto alla farmacia, al supermercato, le cose, emergenza, diciamo. Ma tu non sei così bella, perfetta tutti i giorni. Ti prego, ti sei messa stupenda apposta per noi. Certo, ma... Altrimenti sarebbe... Amici, questo è l'unico, il più vicino che si può essere di uscire in questo momento con i amici, quindi è un'occasione speciale, diciamo. Ci fa molto piacere. Senti, ma allora, secondo te, diciamo i britannici, il governo britannico, è stato molto criticato per la gestione del coronavirus all'inizio. Boris Johnson, come dire, ha prestato il fianco anche a molte critiche, perché ha cambiato atteggiamento quando si è reso conto che la situazione è drammatica. Secondo te, com'è stata gestita davvero l'emergenza del coronavirus nel Regno Unito? Secondo me, quando passerà questo brutto momento, sicuramente tutti i governamenti si fermano e fanno una riflessione dei nostri movimenti che abbiamo fatto, tutte le cose che abbiamo sbagliato, quello che abbiamo fatto giusto. Casomai succede, speriamo di no, però dobbiamo essere preparati. Qui in Inghilterra adesso abbiamo, appunto oggi, più morti di voi in Italia, quindi però diciamo che le cose stanno diventando un po' più positive. Dobbiamo vedere la vita, no? Ma per forza, quello sempre necessario. Io, te l'ho già detto, trovo bellissimo il tuo accento, il tuo modo di parlare, che abbiamo un perfetto balance tra inglese e italiano. Ci racconti, poi il tuo cognome dichiara le sue origini italiane, no Paoli? Ci racconti un po' la tua storia, da dove arrivi, chi sono i tuoi genitori? Con piacere. Allora, il mio nonno, è dove ho preso il nome Paoli, dalla parte della mia mamma. Lui è pugliese, è vissuto nella provincia di Lecce, quindi ho tutti i miei ugini, i miei zii vivono ancora lì a Lecce. Infatti, ho passato tutti i miei stadi lì. Anzi, le mie prime esperienze sul palco sono state lì nella Puglia, durante tutta la festa, perché ormai ci sono sempre le feste estive, ci sono sempre musica al vivo, quindi ho avuto molto opportunità di cantare lì. Qua ci sono ancora alcuni Paoli, però il mio papà è proprio inglese. Lui è di notte, Sherwood Forest. Ma di italiano cosa senti in te? Cioè, a parte l'amore per il bel canto, no? Se ti dico la verità, mi sento più italiana dell'inglese. Ho preso la faccia dalla parte di mio padre, sicuramente, ma parlando di dove preferisco essermi, sto sperando veramente tanto che io riesco ad andarmi nella Puglia quest'estate. Anche se non possiamo uscire, mi rimango veramente male se non posso vedere la mia parte d'Italia in questo momento. Ma secondo te quante chance ci sono di volare quest'estate? Non lo so, il mio padre faceva un camionista, quindi non è un paura guidare. Infatti noi ogni sada prendiamo la macchina e guidiamo da qua fino a Lecce. In macchina? Io dormo, io dormo in tutte le via. Ma due giorni? Quanto ci mettete? È lunghissimo. Ci vuole un bel due giorni e mezzo, una notte in albergo, però così evitiamo di prendere l'aereo. Ogni tanto lui mi spiega e mi dice «Sai Carly, Svizzera, Francia». Ma non hai paura dell'aereo, no? Perché tu viaggi un sacco anche per lavoro, per esibirti ovunque. Non ho paura di prendere l'aereo, però sono un po' tesa di prendere in questo momento. Più di altro di portare i miei genitori o quelli che io amo sull'aereo insieme a me. Chiaro. Senti, poi tu a un certo punto hai scoperto di avere un dono che è la voce, no? Quando arriva quel momento? C'è un momento in cui capisci esattamente di avere qualcosa in più, di diverso dagli altri? Come funziona? Quando avevo notato, mia mamma mi ha portato ad una scuola di teatro dove si può fare ogni weekend. Lì ho incontrato il professoresse di canto e è stata lei che ha preso mia mamma e lei aveva detto guarda che la tua figlia ha una grande voce. Adesso mi fa ridere perché la mia voce era sempre più grande di me. Ho dovuto avere un po' di tempo per crescervi. lei mi ha preso come la sua studente e la cosa bella della storia è che lei è adesso la mia direttore musicale quindi viaggia sempre con me quindi è diventato tipo un'altra mamma, diciamo. però lì è stato quando avevo nove anni ho avuto sempre il sesto sogno. E hai capito chiaramente che quella sarebbe diventata la tua vita, cantare. Sì. L'hai capito subito? Sì. A 16 anni ho avuto un buon studio per andare ad una scuola a Londra. E' stato un momento grande per me perché dovevo dormire lì e sono una persona molto legata con i miei genitori. Quindi la mattina facevo lavori accademici e poi il pomeriggio facevo ballo, teatro, canto e poi dopo quello sono andata al conservatorio della musica. Vedi, sei italiana legata ai genitori vuol dire proprio che ce l'hai nel DNA per essere italiana, no? Sì. Però mia mamma non cucina come un inglese. Lei cucina troppo inglese, mi dispiace. Devo imparare io più nella cucina. La prossima estate fai un corso a Lecce e imparerai perfettamente. Magari. Senti, ma la voce poi è come se fosse una pianta da accudire, da innaffiare, da curare, bisogna togliergli le foglie. Cioè, va coltivata davvero tutti i giorni della vita se vuoi avere, come dire, se vuoi mantenerla perfetta come nel tuo caso. Le cose differenti dalla voce, come tutti gli altri strumenti, è che la voce non puoi prendere e mettere a qualche parte per portare quando vuoi. La voce porti sempre con te, e quindi se tu ti senti stanco, si senti subito nella voce. Quindi devi riposare bene. Io bevo molto acqua caldo con un cuccaione di miele di manuca. Quello è molto forte per la voce. E mangio sano. Faccio allenamenti. Le solite cose sensibili per mantenerti bene nel salute, diciamo. Intanto leggo i commenti di chi ci sta seguendo. Ti saluto, tuo cugino Massimiliano Paoli dalla Puglia. Ti sta seguendo. Ciao. Ciao, cugini. Sei molto giovane, però hai avuto una carriera già davvero intensa e davvero preziosa. Ti sei esibita di fronte a persone, personaggi importantissimi, e anche al fianco di Andrea Boccelli, Rosa Carreras, eccetera. E ti sei esibita anche di fronte, lo dicevo prima, a Charles, a Carlo Principe del Galles. Ma non tremano mai le gambe ogni tanto quando sei a pochi centimetri da personaggi come questi? Ogni volta. Secondo me non perdono mai quel momento di quando si è presa, ma quello è un segnale per dire quanto sei appassionata, quanto hai voglia di dare qualcosa alla gente quella volta. E poi sono sempre mia madre che dici, cresciti, hai scelto tu questa strada, quindi non cambi idea adesso. Vai! Senti, ma Carlo, oltre a cantare per lui, l'hai anche conosciuto? Sì, scusami. Sì, scusami. Sì, certo. Ho cantato per lui la prima volta tre anni fa e poi ho conosciuto personalmente dopo e l'anno dopo mi ha richiesto di cantare di nuovo ad un evento privato. Quindi quello è un grandissimo onore perché puoi dire che hanno piaciuto la mia espressione, diciamo. Sai che noi in Italia siamo davvero in questo momento ossessionati dalla Royal Family, probabilmente più di quanto siate voi britannici. Raccontaci un piccolo segreto di Carlo, di cosa profuma, com'è, di cosa parla. Non mi ricordo come profumo. Ti dico una cosa di il docente Camilla. Lei è una persona molto, molto calda, umile. È la seconda volta quando avevo cantato mi ha abbracciato e mi aveva chiesto per il mio primo album. Quindi quello è stata una una cosa diciamo molto più di più mi ha preso proprio il mio cuore e ovviamente ho inviato il mio primo di Coalente. Senti, non posso non chiedertelo, ma non posso proprio non farlo. Cosa pensi di Meghan e Harry che se ne sono andati, hanno rinunciato a tutto? Cos'è, è un amore proprio di quelli storici che ricorderemo negli anni? È un colpo di te? questa è lei che è una rovina Royal Family? Cos'è? No, per noi siamo siamo tristi di vedere loro vanno a vivere in un'altra regione completamente perché ormai siamo molto legati alla famiglia Royal però dobbiamo rispettare le sue scelte e credo che saremo stati ancora più appassionati di questa storia ma dopo tutto questo di coronavirus abbiamo un po' sarà un problema per un altro giorno diciamo esatto ci siamo concentrati su altro tu come in molti stanno dicendo che il coronavirus e il lockdown e questi mesi di vita così strana hanno cambiato un po' la nostra percezione di noi stessi il nostro modo di pensare e di vivere tu ti senti cambiata in qualcosa e in cosa ti senti cambiata apprezzano di più ogni giorno la gente che ho intorno tutta la bellezza che abbiamo le erbe gli alberi cominci a notare i punti della natura che prima tu ti prendi per niente se mi capis io sento adesso gli uccelli che suonano nel giardino forse anche perché ho meno macchina c'è meno gente in giro quindi la natura si cresce secondo me usciremo tutti persone più cresciute più intonate del mondo che viviamo senti ci chiedono se andrai a cantare al teatro di Taormina in Sicilia con molto piacere non so quando ma se succede tu sarai la prima persona bene perché sei attesa in Sicilia prima del coronavirus vivevamo in uno stato di normalità ci sembrava la normalità quella adesso dovremmo abituarci a un altro tipo di normalità una normalità diversa tu come riesci a immaginarla la normalità post coronavirus adesso non lo so più quel mondo di spettacoli siamo del futuro perché ormai la nostra la nostra carriera è girare di avere una massa di persone insieme è molto bello cantare in streaming ovviamente però è strano quando tu finisci con una bella nota alta si sente niente non ci applaudiamo un po' abbiamo perso qualcosa la nostra latina spero che piano piano la gente avranno la confidenza di uscire ad andare a vedere la cultura di nuovo nel mondo però dobbiamo vedere che siamo sicuri prima ovviamente però diciamo su un palco senza pubblico non si può cantare cioè si può cantare però stanno parlando già perché io ho un torne a settembre e già stanno parlando di diverse moda che possiamo fare queste torne caso mai ci sono ancora problemi abbiamo tanto speranza che a settembre riusciamo a vivere in una maniera un po' più normale però dobbiamo fare i passi piano piano questo è saggio il tuo primo album se non mi sbaglio si intitola si intitolava Sing in my dreams cantando i miei sogni quali sono i tuoi sogni oggi che sei celebra nel mondo spero che io ho cominciato a cantare perché ho sentito le voci di Doris Day questi grandi cantanti che riescono a raccontare una storia dentro la musica spero che ci sarà un'altra ragazza a nove anno un giorno che senta me cantare e avrà la voglia di seguire la sesta strada è un bellissimo sogno questo è anche un sogno di generosità in qualche modo di voler tramandare la bellezza no? alla fine sì io penso che ogni talento è un dono della nostra signora quindi dobbiamo condividere quel dono nella maniera giusta nella vita il tuo secondo forse terzo all'uno il più recente si intitola due anime sì quello è la mia terza album perché c'era un live in mezzo giusto? sì due anime io ne riesco a vedere solo una però che è solare sorridente positiva bellissima hai anche un'anima più scura per così dire sì quello io conservo per i miei genitori solo per i miei genitori no sono no non molto sono molto aperta diciamo siamo bene al momento bene quanto si può essere in questo momento quindi no non non ho quella parte scura e quindi quali sono le due o giù però le due anime del disco quali sono quindi sono la mia anima inglese con la mia anima italiana quel disco è è più il colore italiano diciamo ci sono un universo di Martini ci sono la musica di Ennio Morricone che è un gran amato della musica sua Luis Baclav c'è una bellissima versione della sua mi mancherai del film il postino quindi quello tutto colore italiano e poi come dicevi tu ci sono anche due canzoni cantate in diretta era un concerto che avevo fatto fuori imperiali è stata la prima volta che hanno fatto un concerto lì e quello è successo perché la mia versione moderna di Ave Maria è stata scelta come canzone del giubileo di San Ado Francesco durante quell'anno ma il repertorio musicale italiano però ti piace molto vero sì certo è la musica più bella di cantare anche le parole sono già quando gli italiani parlano e ci sono una melodia dietro senti ma toglimi questa curiosità gli italiani nel Regno Unito hanno ancora quel fascino da italiani cioè funziona sempre essere italiani non ho capito gli italiani hanno un fascino all'estero soprattutto nel Regno Unito che da anni anni funziona sempre è sempre così sì io sono molto rogliosa di essere italiana abbiamo la nostra moda siamo affascinanti e poi abbiamo il cultura della musica il cultura della musica per me è cominciato perché ci sono grandi compositori che hanno riuscito ad adattare l'amore in un mondo che ti arriva nel paradiso secondo me senti prima di salutarti vorrei chiederti perché ce l'hai promesso quindi non possiamo non cogliere questa occasione di intonarci qualcosina a tua scelta qualche nota qualche secondo della tua voce preziosa ho preparato Somewhere Over the Rainbow per voi se mi sembra una bella canzone per questo momento è perfetta perché poi gli arcobaleni sono un simbolo di speranza e ci siamo attaccati un po' anche a quella speranza degli arcobaleni per passare questo momento mi alleggo con il mio non so come non lo so come si chiama la musica sto allegando con la musica ok non la sentiamo più ed è una tragedia questa non la sentiamo più no non la sentiamo più mannaggia purtroppo ci siamo persi carli sul più bello perché la tecnologia anche in questo caso non ci sta aiutando io spero tanti è l'orario qui sono tutti troppo collegati lo so lo so ci riproviamo però non preoccupatevi che non possiamo non possiamo non ascoltare carli comincio con la musica yes please scusa no non ascoltare Is the land I call upon Is the land I call upon Is the land I call upon Somewhere over the way The skies are blue And the heart dreams To dare to dream We need to I wish upon a star And wake up where the clouds Are far behind me Where clouds, mountain light And drops Away above the chimney tops That's where you will find me Onward over the way The birds No, no L'abbiamo persa di nuovo, io temo Ma è grandioso Ma io non la sento più, non la sento più Chissà se ci siete C'è un po' di nuovo C'è un po' di nuovo C'è un po' di nuovo Sono contento che l'abbiamo sentita Perché è uno spettacolo Le mandiamo Speriamo che ci... Vediamo, vediamo, vediamo L'abbiamo persa ma la stiamo recuperando Allora Mi dispiace della pronuncia tecnica della casa mia Scusa Federico No ma... Scusa a tutti No ma ti abbiamo... Ma che scusa, dobbiamo ringraziarti noi perché Intanto ti prego dimmi che eri in playback perché è una cosa mostruosa quella che abbiamo sentito Dì la verità No Complimenti Una voce veramente incredibile Non trovo altri aggettivi Brava, brava, brava Grazie mille E grazie davvero per questo regalo A questo punto Visto che la tecnologia non ci ha aiutato Devi promettere di venire in Italia E farti sentire live a settembre Quando sarà? Però insomma ti aspettiamo qua Con molto piacere Spero sia più fresco possibile per tutti Noi siamo qua ad aspettarti Questa è casa tua Per cui vieni quando vuoi Ormai puoi venire a casa mia quando vuoi anche Carly grazie infinito Un abbraccio A presto Vi saluto Ciao Ciao